arolda non so quali siano le tue intenzioni mi scusi salve hai un bianco morto dentro una cassa non bara cassa non c'è neanche il coperchio una nuda cassa di legno di pino chi finirà nei guai fammi un favore cerca di essere ottimista non arrivi qui se non è tutto iniziato molto tempo fa allora due soldati e un'infermiera si ritrovano a amsterdam abbiamo stretto un patto e giurato di proteggerci a vicenda a qualunque costo ci troviamo nella situazione di essere accusati di aver ucciso qualcuno il che non è vero tu e woodman siete fuggiti il killer ci ha puntati non abbiamo fatto niente perché dovrebbe pensare che siamo stati noi beh non sono in molti a corrispondere alla descrizione di un medico che cerca il suo occhio per terra con il suo avvocato nero colombia low school ci serve qualcuno che ci aiuti a trovare la verità il mio amico è stato ucciso per qualcosa di mostruoso che aveva visto questa cosa si sta rivelando molto più grande di tutti noi dovrete fare come dico se volete uscirne ho pugnalato uno e colpito una donna con un mattone una volta cosa? è una lunga storia ma con voi due sarà una passeggiata sono tempi pericolosi sii prudente sto per fare qualcosa che potrebbe costarmi la vita il cuculo è nel nido e il cuculo finirà in trappola cuculo? questa è una delle migliori innovazioni di Zurigo rimuove ogni dolore quelli come me devono ricorrere all'alcol alla morfina e il che crea dipendenza oh questo è veloce è un altro livello